Che cosa deve fare un uomo per attirare la tua attenzione? Sai quel tipo di attenzione che cerchi, Larsson? Puoi pure girare i tacchi. Velenosa come al solito. Ma ora cerchiamo di parlare di affari. Lara Croft, ti presento Jacopo. Jaclyn Natla, della Natla Technologies. Buon pomeriggio, signorina Croft. Il mio dipartimento di ricerca ultimamente si sta dedicando allo studio di antichi manufatti. Sono convinta che con il giusto incentivo, lei potrebbe essere la donna che fa il caso nostro. Temo che sia fuoristrada. Gioco solo per divertirmi. Ed è proprio per questo che sono venuta da lei, signorina Croft. È un gioco al quale ha già partecipato. Con suo padre. Per anni avete entrambi cercato lo schion di Atlantide. Vi mancava solo la posizione della tomba di Kualopek. Avete trovato Vilcabamba? In quanto tempo può essere in Peru?